Ecco, diamo il benvenuto al Cardinal Angelo De Donatis, che proprio in queste ore, ieri mattina, è stato nominato appunto penitenziere maggiore. Quindi un compito nella Chiesa che fa molto riferimento al sacramento della misericordia divina. E quindi è stato per noi anche un segno che è il Signore che guida la storia. Come ha detto Papa Francesco alla Via Crucis, la mia preghiera può cambiare la storia. Ecco, allora lo ringraziamo che viene a chiudere solennemente questa giornata della misericordia divina che ha visto la presenza di 40 sacerdoti a confessare qui in Chiesa e sotto nel Salone, proprio come segno di questa misericordia infinita di Dio che ha voluto donarci questo segno della penitenza. Allora gli diamo il benvenuto e tra l'altro, essendo anche noi stati sacerdoti nella Diocesi di Roma per più di vent'anni, lo ringraziamo anche per la sua paternità che ha esercitato come Cardinal Vicario per questa Diocesi. Potete immaginare la gioia che ho nel cuore nel celebrare questa Eucharistia con voi questa sera in questo luogo così significativo dove da anni si viene proprio per invocare come popolo di Dio la misericordia, la sua misericordia, dove Santa Faustina ci consegna un messaggio meraviglioso. Quindi iniziare questa parte nuova della missione del mio ministero in questo luogo non è stato preparato a tavolino, è il Signore che l'ha preparato. Quindi ripeto con voi quella bellissima preghiera, Gesù confido in te, perché è Lui che apre le strade, è Lui che ci precede sempre, in ogni situazione della nostra vita. E il Vangelo di questa domenica, la Domenica della Misericordia, voluta da San Giovanni Paolo II, come avete sentito, annuncia una beatitudine. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Se Tommaso è il discepolo che arriva a credere perché ha visto, noi, tutti noi, siamo coloro che siamo chiamati a credere senza vedere. Anzi, di più, siamo chiamati alla beatitudine del credere senza vedere. Se uno legge il quarto Vangelo, il Vangelo di Giovanni, non si parla spesso di beatitudini. Non ci sono tanti riferimenti. Uno è quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo di oggi. E un'altra volta lo troviamo dopo la lavanda dei piedi, quando Gesù dice ai Suoi discepoli, che sono sbalorditi dal suo gesto, in verità, in verità io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Ecco il secondo riferimento della beatitudine. La beatitudine di aderire al Cristo per fede e non per la visione, questa beatitudine si concretizza in una pratica, nel lavare i piedi ai fratelli. Cioè, dove si realizza questa beatitudine? Nel servizio. Nel servizio reciproco, fraterno. Fede e servizio sono inscindibili. Non si possono separare. E il servizio fraterno, se fatto con amore, è davvero fonte di beatitudine, è fonte di gioia, è fonte di felicità. Gesù viene in mezzo ai Suoi dopo la sua passione e dopo la sua morte. Dice il Vangelo, stette in mezzo. Questa è la postura del risorto. Questa è la posizione del risorto, che dona ai Suoi discepoli il perdono, che dona la pace, che dona la misericordia. Ma i segni del servizio concreto che Gesù ha fatto nei nostri confronti, questi segni restano, sono i segni della sua passione. I segni che ci sono anche dopo la resurrezione, che continuano ad essere impressi nelle mani e nel fianco di Gesù risorto. Sono i segni dell'amore. Qualcuno l'ha definita proprio non più le ferite, ma le feritoie attraverso le quali continua a aggiungere a tutti noi il suo amore. Sono i segni dell'amore. Amare significa agire concretamente e anche faticosamente, come indicano i segni dei chiodi nelle mani. Amare significa avere il cuore spezzato, come indica il fianco trafitto di Gesù. Dal fianco del crocifisso, ci dice il quarto Vangelo, erano usciti sangue e acqua, simbolo della generazione della Chiesa, la Chiesa che stava ai piedi della croce. Sulla croce Gesù aveva effuso lo spirito, consegnandolo alla Chiesa, alla Chiesa che stava lì, ai piedi della croce. C'era la madre e il discepolo amato. È bellissima la conclusione del quarto Vangelo, mentre gli altri evangelisti dicono e Gesù spirò, Giovanni dice una cosa meravigliosa, Gesù consegnò lo spirito. È Gesù che dà la vita. Me lo immagino come un bacio. In quel momento è Cristo che bacia ciascuno di noi, che bacia l'umanità intera e attraverso il bacio trasmette la vita. E' qualcosa di straordinario. Ecco la sua misericordia, donata a tutta la Chiesa, lì, ai piedi della croce. E adesso il risorto rinnova quella Pentecoste giovannea, soffiando sui discepoli e donando loro lo Spirito Santo. Ricevete lo Spirito Santo. Gesù non viene in mezzo ai discepoli così in maniera generica, Gesù viene in mezzo ai discepoli mostrando le ferite che gli abbiamo fatto, mostrando quelle ferite, annunciando la pace, annunciando la remissione dei peccati, grazie all'effusione dello Spirito Santo che è il perdono di Dio. Mentre noi gridavamo crocifiggilo, Gesù ci ha amati di un amore capace di trasfigurare il male in bene, di trasformare la morte in vita. L'incredulità di Tommaso è la nostra incredulità. Cioè di fronte a questo amore incondizionato, di fronte a questo amore incomprensibile, viene fuori la nostra incapacità di credere che l'amore sia più forte della morte, che l'amore possa vincere il peccato, che l'amore possa vincere l'inimicizia, che l'amore possa vincere l'odio, che l'amore possa vincere la divisione. Noi dobbiamo confessarlo, facciamo fatica, non abbiamo l'esperienza di questo amore. Noi non siamo capaci di un amore del genere. Ecco perché facciamo tanta fatica a riconoscerlo, ad accettarlo. Voi pensate che il brano della peccatrice perdonata nel Vangelo di Giovanni e quello era rimasto fuori dai Vangeli perché faceva scandalo, non si riusciva a metterlo nei canoni perché quell'amore dato gratuitamente, non c'è stato neanche un pentimento da parte di quella donna. Donna, nessuno ti condanna, nessuno, neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Che scandalo! Com'è possibile un amore del genere? Così gratuito, così immenso, così straordinario. Facciamo fatica ad accogliere questo amore. La beatitudine della fede non sta più allora nel vedere o nel toccare il corpo di Gesù ma nel discernere il suo corpo nel fratello, nella sorella sofferenti, nel riconoscere il nostro peccato che ferisce il fratello, la sorella e quindi saper chiedere perdono e accogliere il loro perdono. E la fede nel risorto che sostiene anche nelle prove la nostra vita e ci aiuta a camminare, ad andare avanti. E allora, fratelli, sorelle, la salvezza è proprio questa. vivere nell'amore attendendo nella speranza la venuta del Signore. Ci prepariamo al Giubileo? Avrà questo tema proprio, pellegrini di speranza. La salvezza è questo. Vogliamo vivere nell'amore. Vogliamo rimanere nell'amore. Vogliamo resistere in quest'amore che soltanto il risorto ci dona. e lo attendiamo nella speranza. Attendiamo nella speranza la sua venuta definitiva. Il Signore risorto ha chiesto a Tommaso di mettere il dito sul segno dei chiodi e di mettere la sua mano sul suo costato trafitto. Noi questa sera gli chiediamo di insegnarci a vedere i segni del nostro peccato. I padri della Chiesa erano straordinari. Dicevano che la grazia più grande che possiamo ricevere è riconoscere il peccato che abbiamo fatto. Perché se lo riconosciamo sentiremo il bisogno della salvezza. Se non ce ne rendiamo conto non avremo mai fame e sete del perdono della misericordia. Ecco perché ironicamente c'era qualche padre che si divertiva anche a scrivere queste espressioni. Diceva chiedi al Signore la grazia di sentire di scoprire il tuo peccato non quello degli altri. E usava questa espressione rimani a piangere il morto che c'è in casa tua non andare a piangere il morto che c'è in casa degli altri. Quindi la riconoscenza del proprio peccato. Perché questo ci apre alla misericordia. Quando uno sente che ha bisogno della vita la vita la cerca a tutti i costi non vuole morire. La vita la vita piena quella che soltanto il Redentore ci può dare la desideriamo tutti perché il nostro cuore è fatto per lui. nessun'altra cosa potrà riempire il cuore dell'uomo. I medievali giustamente dicevano il cuore dell'uomo è capax dei è capace di Dio e soltanto l'amore di Dio ci può riempire. Ecco allora fratelli la grazia di riconoscere il nostro peccato la grazia di vedere impressi sul suo corpo ecco quello che le nostre divisioni i nostri odi le nostre lotte così a volte assurde infliggono sul suo corpo che poi il corpo di Cristo lo sappiamo è il corpo dei fratelli e delle nostre sorelle e quindi chiediamo veramente di aiutarci a credere che i nostri peccati riconosciuti sono perdonati sono perdonati sono purificati sono trasfigurati dall'amore di Dio perché Dio ci ha dato questo perdono incondizionato nel figlio suo Gesù Cristo morto e risorto per noi questa è la grazia che chiediamo non so se qualche volta siete stati dunque la Valle Santa di San Francesco i luoghi sono Fonte Colombo Greccio e Poggio Bustone quando ero in seminario avevo legato a questi tre luoghi tre virtù tre situazioni spirituali ecco mi ricordo l'obbedienza a Fonte Colombo dove aveva scritto la regola la povertà al santuario di di Greccio dove aveva fatto il presepe e la la verginità cioè la la vita pura la vita animata dalla grazia a Poggio Bustone perché in quel santuario per un semplice motivo perché lì San Francesco ha avuto la grazia piena di sentire che tutti i suoi peccati erano stati perdonati che meraviglia arrivare a questa esperienza spirituale cioè non portarsi dietro nessun fardello più pesante perché tante volte delle cose commesse nella vita negli anni passati possono ritornare come macigni come pesi da cui non riusciamo ad allontanarci ma questo perché perché forse non siamo arrivati ancora a credere totalmente che il Signore ha perdonato tutto ha perdonato tutto il suo sangue versato ha perdonato tutto ci ha rigenerati e allora vi auguro con tutto il cuore quando pensate alla vita pensate alla con tre chiavi è il regalo che vi faccio questa sera perché è stata un po' la sintesi del cammino spirituale anche di questi anni quando guardiamo al passato e certe cose ritornano rivengono fuori sapete qual è la chiave per leggere il passato il perdono quando una cosa viene fuori dire no lui mi ha già perdonato il perdono l'ho già avuto il Signore ha risanato la mia vita l'ha guarita questa è la chiave per leggere il passato la chiave per leggere l'oggi il presente è la chiave dell'eternità quando noi viviamo l'oggi dobbiamo dire quest'oggi è illuminato dalla luce che mi attende la luce della vita eterna non posso perdermi in piccole situazioni quello che sto vivendo deve essere illuminato dalla vita eterna dalla pienezza della vita eterna ecco la seconda chiave per leggere il presente il presente non è la nostra patria definitiva la nostra patria definitiva è nel cielo è lì che stiamo camminando stiamo camminando verso questa meta e la chiave per leggere il futuro la terza chiave è quella della fiducia tante volte ci chiediamo come sarà il nostro futuro che cosa mi attende in questi tempi così difficili dove stiamo toccando con mano tante malvagità quale sarà il nostro futuro quale sarà il futuro dei nostri ragazzi dei nostri figli che cosa hanno davanti ecco la fiducia la fiducia sia la chiave per leggere il futuro perché la realtà è questa noi non sappiamo cosa ci attende una cosa è certa che Dio non ci abbandona che Dio è con noi che Dio cammina con noi guida la storia come diceva Don Paolo all'inizio quindi questa è la certezza vedete queste tre chiavi sono le chiavi per rileggere la nostra vita la chiave del perdono la chiave dell'eternità la chiave della fiducia e allora continuiamo a pregare e a dire Gesù confido in te Amen grazie a tutti grazie a tutti